Buon pomeriggio e benvenuti a tutti e a tutte. Oggi è la terza conferenza che conclude il ciclo Democrazia e Diritti. La lezione del professor Andrea Colorio riguarderà la magia, la religione e i diritti, di inclusione e di esclusione nel mondo greco e romano. Dunque, oggi il diritto è considerato un sapere squisitamente laico, ma non è sempre stato così. A Roma, ad Atene, il trasferimento di norme consuetudinarie che venivano trasmesse oralmente, di generazione in generazione, ad una normativa fissata in una forma scritta, avviene piuttosto tardi, anche secoli dopo la fondazione delle città. Tuttavia, anche i testi scritti conservano una reminiscenza di pratiche magiche o di espressioni che risalgono a un formulario sacrale e religioso. Pensiamo, ad esempio, a Roma, alle leggi delle dodici tavole, promulgate verso la metà del V secolo a.C., che costituiscono il primo corpus di provvedimenti legislativi. Purtuttavia, esse mantengono la portata magica di certe parole, perfino di certe parole, che pronunciate evidentemente hanno un valore vincolante per chi le dice e per chi anche le recepisse. Ma le leggi delle dodici tavole contengono anche delle disposizioni che risalgono evidentemente a rituali magiche e peraltro puniscono quella che veniva considerata la magia negativa. Anche il linguaggio latino rievoca, insomma, queste reminiscenze antiche. Il termine fides, che afferisce alla sfera religiosa, e indica la lealtà, la parola data, che indica evidentemente un rapporto di reciprocità tra due contraenti, e se violata può comportare perfino la pena di morte, ha la stessa radice semantica del fedus, cioè quel patto giurato tra popoli che si è sancito poi dall'offerta rituale. Un grosso contributo alle rappresentazioni mentali che costituiscono la base da cui si origina il diritto è stato dato, intorno alla prima metà del secolo scorso, da Louis Gernet, un filologo grecista, francese, che è antropologo, esperto di diritto e allievo del sociologo Durkheim, per il quale la nozione di prediritto non prefigura una civiltà prepolitica, ovvero non è antecedente alla nascita delle polis, ovvero delle prime forme di organizzazione di città-stato, piuttosto coesiste con quella fase di coesistenza delle norme consuetudinarie che continuano però a sopravvivere anche quando il diritto viene formalizzato e sono appunto presenti nelle procedure che fanno parte evidentemente della funzione giuridica. Questa è un po' l'area che sarà esplorata oggi dal avvocato professor Andrea Colorio, che è socio ordinario dell'Accademia Roveretana degli Agiati, avvocato cassozionista iscritto all'albo degli avvocati di Bolzano e dottore di ricerca internazionale nelle università di Milano Bicocca e Parigi 1-Panteon-Sorbonne. Nel 22 è stato inserito dalla Commissione europea nell'elenco dei candidati idonei alla nomina d'arbitro nelle controverse bilaterali nel quadro degli accordi commerciali dell'Unione europea con paesi terzi. È responsabile territoriale per il distretto della Corte di Appello di Trento della neonata Camera degli Avvocati Internazionalisti. Nel 2018 ha pubblicato un volume monografico sulla garanzia reale mobiliare nel diritto greco dal titolo Enechiron, ovvero i beni mobili e immobili che sono nelle mani del creditore a garanzia dell'obbligo di restituzione da parte di un debitore. Quindi si tratta di un'analisi evidentemente delle fonti di questo istituto giuridico chiamato Enechiron e anche evidentemente delle modalità con le quali i beni mobili potevano essere posti a garanzia e anche attraverso quali strumenti lo erano. Più recentemente Colorio ha dato alle stampe gli scritti su diritto e scienza dal mondo greco-romano ai processi del ventunesimo secolo. È inoltre autore di numerosi articoli in materia di storia del diritto di arbitrato e anche sul diritto sul rapporto sfida da te fra diritto e neurosciente. Bene, non ci resta che il piacere di ascoltarlo. Prego. Allora, sentite? Buongiorno, buon pomeriggio a tutti anche a quelli che sono collegati via webinar. Ringrazio insieme a tutti la professoressa Salomoni presidente dell'Accademia per la presentazione. Purtroppo devo confermare che non sono professore ma chissà. Comunque, grazie per la presentazione. Ringrazio anche il professor Dendri e anche l'avvocato Mirandola per l'organizzazione di questo ciclo di conferenze così interessante nel quale in realtà diciamo abbiamo fino ad oggi parlato di democrazia e diritti in una chiave moderna con riferimento alle società moderne mentre invece appunto lo gesto della relazione di oggi è collegato e quindi il focus è sulle società arcaiche antiche. Ecco, nelle società arcaiche e come diceva anche la professoressa Salomoni in precedenza vi era una reale interconnessione tra elementi religiosi morali e in qualche modo giuridici. Anche l'analisi di civiltà tra loro molto diverse e distanti mostra in maniera molto chiara che la religione la morale e il diritto avevano una base comune nella struttura sociale e potremmo dire costituivano quasi un unicum organico e nella maggior parte dei casi queste prescrizioni credenze questi potremmo chiamarli riti erano fusi in una rete complessa che si sviluppava in società che erano basate su relazioni interpersonali inizialmente all'interno dei gruppi familiari e quindi queste strutture queste relazioni non corrispondevano a quello che con una terminologia moderna potremmo definire diritto ma è ugualmente vero che i vincoli prescrittivi che emergevano da questa interconnessione erano talmente solidi che in molti casi erano ampiamente in grado di dirigere determinare ed anche limitare le azioni delle persone abbiamo tracce di questo tipo di questi sistemi sociali a cui mi riferisco ancora oggi in alcune società moderne che vengono definite ad alto contesto sociale ad alto contesto sociale perché le relazioni personali in queste società come in particolare la società cinese determinano delle forme di coercizione che per alcuni aspetti superano addirittura la coercizione della legge stessa un esempio appunto in Cina è l'istituto della Guangxi che di fatto codifica una serie di prescrizioni sociali che sono vincolanti in un ambito parallelo addirittura a quello della legge ufficiale mi sono occupato un po' Guangxi recentemente per un articolo in materia di indipendenza e imparzialità degli arbitri proprio perché secondo alcuni autori la Guangxi determinerebbe dei vincoli che risulterebbero talora incompatibili con l'attività di determinati arbitri che si troverebbero in Cina a non poter essere realmente imparziali e indipendenti proprio perché appartenenti ad un certo tipo di contesto sociale che impedisce questa indipendenza imparzialità ecco tornando al discorso appunto gli studiosi si riferiscono come diceva appunto la professoressa convenzionalmente a questo unicum a cui abbiamo fatto riferimento con il termine di prediritto che era un sistema di regole e prescrizioni che aveva origine secondo alcuni nel fenomeno arcaico addirittura primitivo del cosiddetto altruismo reciproco ecco appunto nel periodo arcaico questo tipo di comportamento altruistico consisteva principalmente nello scambio di beni e favori che veniva effettuato sulla base di comportamenti inizialmente unilaterali che però erano in grado di stabilire un debito di gratitudine attraverso cui appunto il ricevente si percepiva come inevitabilmente legato al donante il quale a propria volta era consapevole di questa della creazione di questo tipo di rapporto e come ha efficacemente rilevato Moses Finley che è uno degli degli studi più che più hanno scritto su questo tema le società primitive ed arcaiche non conoscevano di fatto delle azioni totalmente altruistiche o che fossero realmente prive di interessi chiunque faceva qualcosa si aspettava poi di essere effettivamente ricambiato all'inizio questi meccanismi sono sviluppati nell'ambito delle relazioni più strettamente familiari ma successivamente si sono poi estese ai gruppi interfamiliari un esempio è quello dello scambio dei doni nella Grecia arcaica che diciamo in particolare dei doni dei cosiddetti doni di ospitalità che riconduciamo al fenomeno che veniva chiamato Xenia che costituiva una pratica che instaurava da un lato instaurava degli obblighi molto solidi tra le persone ma garantiva anche la sicurezza negli spostamenti e creava addirittura le basi per la formazione di alleanze ecco che quindi se è vero che diciamo il passaggio da prediritto a diritto può essere individuato con quella che Louis Gernet ha identificato come la funzione giuridica autonoma cioè il momento in cui il diritto ha assunto una funzione propria e specifica non meno vero è che appunto questa transizione tra prediritto e diritto è avvenuta con un certo grado di continuità c'è anche un po' di dibattito su questo passaggio tra prediritto e diritto alcuni addirittura sostengono che bisognerebbe tenere in considerazione i singoli istituti giuridici per verificare rispetto ad ogni istituto quando si possa dire che si è passati da prediritto a diritto in generale ecco possiamo dire che il passaggio la nascita di quello che appunto può essere individuato come diritto nell'ottica di quella che Gernet ha chiamato come funzione giuridica autonoma è avvenuto con un forte grado di continuità infatti quindi mi rifaccio a quello che diceva il professor Franzoni nella conferenza della settimana scorsa l'idea di funzione giuridica autonoma è completamente diversa dall'idea di dottrina pura del diritto di Kelsen appunto il professor Franzoni ha citato si è soffermato sull'idea appunto di dottrina pura del diritto che però non ha molto a che fare con lo sviluppo di una funzione giuridica autonoma nell'ottica appunto Gernetiana proprio perché all'interno di questa funzione giuridica autonoma permangono molti aspetti tipicamente esquisitamente pregiuridici ecco appunto fuor riferimento all'antica Grecia Gernet ha sostenuto che questo passaggio tra prediritto e diritto non abbia una natura cronologica ma una natura piuttosto dinamica e appunto sia molto sfumata la divisione tra la dimensione pregiuridica e la dimensione giuridica più recentemente Neil Duxbury ha osservato con riferimento in particolare al diritto penale greco che il sistema primitivo del delitto privato appunto non era un concetto giuridico in senso moderno ma piuttosto esisteva qui cito appunto Duxbury come forma legittima regolamentazione sociale in virtù delle connotazioni magico-religiose e rituali che si legavano al suo uso nella pratica sociale ecco questo aggettivo magico-religioso non è per nulla casuale e qui veniamo alla prima parte appunto dell'intervento e del titolo dell'intervento che riguarda appunto la magia infatti la magia è stata praticata nel mondo greco quanto meno dai tempi omerici ma probabilmente anche molto anche molto prima ancora nel quarto secolo l'uso di pozioni magiche di incantesimi di maledizioni di cui poi parleremo era molto diffuso tant'è che lo stesso Platone nella Repubblica fa riferimento ai maghi vagabondi che vendevano ad Atene la loro merce tra cui anche incantesimi e maledizioni vincolanti con la promessa di curare qualsiasi malefatto oppure nuocere a determinate persone e risale quantomeno al VI secolo in realtà l'abitudine che poi era greca ma poi è stata assorbita ampiamente anche nel mondo romano di redigere addirittura per iscritto sono quelle che appunto a Roma venivano chiamate defictiones in Grecia catadesmoi delle vere e proprie maledizioni su tavolette di piombo che inglobavano delle formule magiche anche molto articolate che venivano utilizzate anche addirittura a riferimento a processi in corso ecco in questo in questo contesto addirittura la scrittura diviene addirittura parte integrante del rituale magico anche se in realtà appunto non possiamo pensare che fosse venuta meno la possibilità di fare maledizioni in forma orale ma in realtà la scrittura diventa parte integrante perché tra proprio come verbo di diciamo di defissione se così possiamo se così possiamo dire è testimoniato il verbo grafo appunto scrivo perché in questo senso si è osservato come la cosiddetta azio magica si realizzasse di fatto proprio attraverso la struttura e si identificasse con la struttura con la scrittura stessa per cui appunto lo stesso scrivere l'idea appunto di scrivere che da un punto di vista che potremmo definire funzionale in qualche modo diventa là il corrispettivo della della maledizione stessa era poi diffuso l'uso di verbi che indicavano l'affidamento e quindi sostanzialmente la consacrazione di colui che veniva appunto defisso alle divinità infere tra cui mando commendo demando trado in greco paradidomi paracatetena e anatitemi e sono tutti verbi che permettono appunto al defigente colui che faceva la maledizione di affidare appunto la maledizione stessa il maledetto in questo caso oppure un oggetto particolare alla divinità e descrivono degli atti che sostanzialmente attraverso questi verbi attribuiscono la responsabilità e l'esecuzione di queste azioni di maledizione alla divinità interpellata tant'è che addirittura c'è chi ha ipotizzato che l'origine di questi verbi possa essere accomunata o comunque rintracciata in qualche modo associata a termini di contesto legale o tecnico in quanto lo scopo era spostare la responsabilità in qualche modo potremmo dire giuridica della maledizione dal proponente diciamo alla divinità stessa per quanto riguarda il mondo romano in parallelo adesso cercherò di faccio dei riferimenti che un po' spaziano dal mondo greco al mondo romano per quanto riguarda il mondo romano possiamo pensare a tutte le pratiche magico-religiose che già anticipava la professoressa Salomoni alle quali viene fatto riferimento nelle stesse nelle stesse dodici tavole come dicevamo che sono costituiscono di fatto la prima vera opera di codificazione romana verso la metà del quinto secolo avanti Cristo possiamo pensare per esempio alla pratica che le dodici tavole appunto vietavano magia negativa della cosiddetta bagulazio che prevedeva il canto di formule magiche alla porta dei testimoni che rifiutassero di presentarsi in giudizio se oggi penseremmo ad un accompagnamento coatto magari per ottenere l'effetto di avere il testimone in aula e capita frequentemente e allora si pensava appunto di cantare delle formule di magia negativa alla porta del testimone stesso e è significativo il riferimento alla porta perché la porta era considerata nel mondo romano il luogo per eccellenza di natura magico-religiosa perché proprio dalla porta che entravano ed uscivano gli spiriti benevoli e malevoli e non possiamo poi in questo stesso contesto tralasciare appunto le pene molto severe a cui erano soggetti coloro per esempio che tentavano di danneggiare o impossessarsi delle messe altrui ricorrendo al cosiddetto incantamento era punito in particolare dalle dodici tavole proprio il comportamento di chi danneggiava con dei canti magici o intendeva spostare addirittura perché si riteneva che questi canti avessero l'effetto eventualmente anche di poter spostare le messe da un campo all'altro appunto era punito il comportamento di chi appunto voleva danneggiare oppure intendeva spostare con formule magiche le messe proprio perché come si è detto in precedenza nel mondo romano si riteneva che vi fossero delle parole e dei riti che potessero avere un effetto materiale dannoso per colui o per ciò nei confronti del quale diciamo erano essi erano rivolti e infatti era era ugualmente punito dalle dodici tavole il comportamento di chi gettava malocchio su altri oppure sul campo altrui ovviamente cercando di ottenere un effetto da questo malocchio in particolare il cosiddetto malum carmen incantare era appunto un'attività prevista dalle dodici tavole che inizialmente era probabilmente riconducibile al malocchio che veniva lanciato contro il nemico in battaglia con un canto magico mentre invece un'altra attività sempre diciamo punita dalle dodici tavole era quella dell'attività definita dal verbo occentare che indicava appunto anche in questo caso la pronuncia di una formula magica nei confronti di qualcuno che avesse fatto determinati torti ecco appunto questa integrazione o compenetrazione tra il mondo del diritto e il mondo magico religioso emerge quindi in maniera molto chiara ed è poi confermata soprattutto con riguardo appunto la religione dall'analisi anche del diritto penale greco a diversi livelli sappiamo per esempio che uno dei principali reati in Grecia nella Grecia antica adesso parliamo soprattutto poi di Atene il discorso sarebbe anche molto ampio ma non è oggi la sede per approfondirlo su che cosa si intenda ad esempio per diritto greco e c'è una c'è una ampia cherel sul punto se si possa parlare di diritto greco se debba parlare di diritti greci abbiamo parlato prima anche con la professoressa Salomoni in realtà diciamo di solito la tesi preponderante è quella della unitarietà del diritto greco cioè basata sull'idea che benché chiaramente nelle diverse pole es greche vi fossero diverse discipline giuridiche sia possibile comunque intravedere un'unitarietà che permetta appunto in generale di parlare di diritto greco però ecco la maggior parte delle considerazioni che faremo sono riferite ad Atene però con alcuni spunti anche tratti da altri diciamo da altri contesti ecco dicevamo appunto che uno dei principali reati contro la religione era la cosiddetta Ierusulia che era il furto di oggetti sacri ma in realtà comprendeva anche altri reati ulteriori rispetto appunto alla sottrazione illecita di oggetti ad esempio da un tempio tra cui anche per esempio il fatto di trascinare via un fedele da un santuario che in parallelo costituiva anche una violazione della asilia cioè il diritto appunto di asilo garantito nei luoghi sacri ecco questo reato di Asebeia era in realtà espressione anche dell'altro reato principale questo reato della Ierusulia era espressione anche dell'altro reato principale della Asebeia che è indicato normalmente con il termine di impietà e è stato utilizzato in alcune polies greche come strumento per addirittura modellare la procedura penale da applicare a reati che erano di natura non religiosa quindi ecco la struttura del reato religioso è stata applicata in molti casi proprio per diciamo strutturare reati che invece erano non avevano nulla a che fare con con la religione un esempio di questa di questa integrazione tra religione e diritto è diciamo la ritroviamo ad esempio in un'altra procedura modellata su un rituale che è la ichesia ovvero sia la supplica l'istituto della supplica risale a epoche molto molto antiche della diciamo della civiltà greca e anche nell'epica omerica la supplica viene ricordata richiamata in diversi contesti e pensiamo anche alla stessa allo stesso famosissimo episodio dell'incontro di ulisse con nausica in cui ulisse appunto abbraccia dice la famosa frase ti abbraccio le ginocchia o signora e abbraccia appunto le ginocchia di nausica ecco la supplica ha un una diciamo un'origine molto 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 antica ma trova appunto una una precisa collocazione anche a livello giuridico a livello assembleare tant'è che appunto aristotele nella canale in politeia dice specificamente che appunto vi era un'assemblea specificamente dedicata qui lo cito appunto alle suppliche nella quale chi vuole dopo aver posto una supplica discute davanti al popolo di una questione privata o pubblica a suo piacimento peraltro la sopravvivenza di numerose altre procedure di origine prettamente religiosa o sacra come ad esempio il giuramento e il sacrificio ecco l'esistenza di questa di questa la sopravvivenza nel diritto l'esistenza di queste di questi di questi istituti è ulteriore prova della appunto della compenetrazione dell'integrazione tra religione e diritto allora per quanto riguarda il giuramento l'espressione stessa di giurare mostra un'origine tipicamente sacrale in quanto la formula questa formula aveva proprio il significato originario di afferrare con forza il bastone e quindi appunto l'origine l'origine sacrale addirittura insita nella formula stessa di un appunto giuramento che era integrato nella società greca a vari livelli dobbiamo pensare a questo riguardo che la violazione eventuale violazione del giuramento su cui poi adesso ci concentreremo poteva comportare conseguenze molto gravi poteva comportare l'esclusione dai riti una sorta addirittura di ostracismo sociale se così possiamo dire in quanto appunto la trasgressione di una di un riferimento appunto del giuramento era percepito allo stesso tempo non soltanto come la violazione di una norma ma anche come di fatto un affronto agli dèi e quindi ecco ciò perché come abbiamo cercato di chiarire di spiegare di ricordare il legame appunto tra l'ambito giuridico e quello religioso era assolutamente fondamentale anche tra l'altro in un'ottima in un'ottica di garanzia se così possiamo dire come potremmo dire oggi di un certo ordine di un certo ordine pubblico e i giuramenti per esempio molto conosciuti che venivano prestati dai magistrati atenesi sono un chiaro esempio di questa di questa connessione tra la sfera sacrale e la sfera giuridica e di fatto evidenziano come la diciamo la religione permeasse ogni singolo aspetto della vita civile e della vita giuridica nell'Atene democratica e del resto sappiamo che per esempio anche a livello interstatale adesso poi questo sarebbe troppo complicato appunto espandere il discorso anche su questo tema ma appunto anche nei rapporti interstatali i magistrati che rappresentavano i singoli stati le singole poleis a livello internazionale dovevano prestare anche loro un giuramento rituale come il resto ricorda anche Tuccivide e del resto appunto sull'istituto del giuramento su cui potremmo soffermarci a lungo le stesse leggi di Gortina danno prova ecco Gortina anche qui non voglio fare una divagazione ma appunto siamo a Rovereto per cui visto che lo scopritore della grande iscrizione di Gortina è il professor Halper diciamo secondo me molto significativo anche citarla citarle appunto queste norme sono poco conosciute ma in realtà le leggi di Gortina in particolare la grande iscrizione costituisce il diciamo il testo normativo più tant'è che viene definito codice più ampio di tutto il mondo di tutto il mondo greco è stato rinvenuto appunto Gortina in Grecia per la precisione a Creta alla fine del XIX secolo e è di un'importanza capitale anche perché ci ha permesso di analizzare diversi aspetti anche del diritto attico per avere conferme su specifiche questioni appunto premesso quello che abbiamo già detto in precedenza che in realtà il diciamo vi erano delle differenze tra i diversi diritti del mondo greco e premesso questo però ecco nell'ottica appunto dell'unitarietà del diritto anche il diritto di Gortina ha permesso di confermare diversi aspetti di cui avevamo poche fonti diciamo per quanto riguarda il per quanto riguarda Atene ecco dicevamo anche in riferimento al giuramento grazie alle leggi di Gortina grazie in particolare al codice abbiamo prova di un sistema di giustizia che era in parte nell'ambito del diritto civile e anzi diremmo della procedura civile fondato proprio sul sul giuramento tant'è che in alcuni specifici contesti in alcuni specifici casi una causa poteva essere decisa ad esempio dal appunto dal giuramento che una parte diceva oppure addirittura e questo era il famoso omnintacreename dal giuramento del giudice cioè anche il giudice poteva in alcuni specifici casi effettuare un giuramento e decidere con questo giuramento la la causa ecco dicevamo abbiamo anticipato che due seduti molto importanti sono appunto il giuramento e anche il sacrificio e a riprova appunto dell'integrazione tra diritto e religione anche appunto il sacrificio era un elemento di per sé addirittura centrale nell'ambito della religione greca ma più in generale nell'ambito appunto della società greca in particolare veniva utilizzato il termine che si riferiva alla pratica appunto di offrire animali agli agli dei ed era un rito che era riservato esclusivamente ai cittadini che erano appunto gli unici autorizzati a partecipare attivamente alle cerimonie religiose e alla festività si trattava di riti molto specifici che avevano quindi un formulario non se così possiamo dire non semplice molto cruenti e che però appunto dai quali emerge appunto una ritualità che effettivamente appunto è stata in qualche modo assorbita non soltanto nel contesto strettamente religioso ma anche a livello in qualche modo sociale ecco l'integrazione tra i rituali religiosi e la polis potremmo dire appunto nel sacrificio è particolarmente evidente del resto nel Dalisia sappiamo nel discorso contro Nicomaco che dove appunto Nicomaco viene accusato in relazione appunto all'opera che aveva condotto sul calendario sacrificale appunto sappiamo che l'oratore sottolinea proprio la necessità che i sacrifici avvenissero in conformità a disposizioni religiose che erano cristallizzate nelle cosiddette curbeis e nelle stelai quindi in diciamo tavole sacrali quindi che avevano un effetto che avevano un'importanza particolare e appunto l'oratore sostiene che solo sacrificando in conformità alle curbeis proprio sacrificando anzi in conformità alle curbeis gli antenati degli ateniesi avevano potuto creare una città che di fatto aveva un livello di ricchezza di grandezza di prosperità più alto di quello di qualsiasi altra città del mondo greco quindi anche in questo caso emerge il fatto che fosse proprio il rito a determinare in qualche modo il potere il potere stesso e anche la fiducia che in questo potere avevano avevano gli attinesi ecco come ha in quest'ottica osservato Anria Van Santair richiamandoci ancora all'idea appunto di funzione giuridica autonoma di cui abbiamo parlato in precedenza lo sviluppo di questa di questa cosiddetta funzione giuridica autonoma non ha affatto eliminato il patrimonio magico religioso che era di fatto integrato nella società greca antica ma al contrario come poi ha scritto più recentemente il professor Maffi sono state proprio le strutture della città che hanno di fatto sfruttato introiettato l'elemento soprannaturale ad esse preesistenti incorporandolo nell'organizzazione della polis e proiettando quindi le istituzioni atenesi in qualche modo nella sfera dell'ordine divino ecco in verità anche un discorso analogo è stato fatto anche riferimento al mondo romano al diritto romano e è stata individuata addirittura una per così dire una vocazione del religioso che attraverso in forza della quale la religione potrebbe in qualche modo trasformarsi in un diciamo in un contesto giuridico in un sacro adesso appunto riferisco una citazione in un sacro elaborato prescrittivamente e questo è confermato dal fatto che la terminologia stessa tecnico-giuridica del diritto romano ha conservato moltissimi elementi che erano strettamente legati agli elementi magico-religiosi tipici del del predilitto e anche la sua simbologia la sua ritualità sono riconducibili di fatto a questi elementi in qualche modo tre giuridici possiamo fare a titolo di esempio possiamo anche partire dallo stesso concetto dallo stesso termine ius che è sicuramente un termine di origine indoeuropea e che secondo alcuni potrebbe essere riconducibile all'etimo sanscritto ioc da cui avrebbe origine poi anche in latino il iovis il termine iovis e che avrebbe quindi un collegamento di per sé una stessa origine di natura magico sacrale questa constatazione è in qualche modo rilevante perché se così fosse come pare sia lo stesso concetto indifferenziato di ius cioè un concetto diciamo antecedente a quello di ius in senso tecnico come potremmo utilizzare poi nel diritto romano appunto precederebbe quella distinzione a cui faceva riferimento nella scorsa nella scorsa conferenza il professor Franzoni tra ius e pass che solo da diciamo da un certo momento in poi si è in qualche modo cristallizzata attraverso il fenomeno che Vacantarella ha descritto come umanizzazione del diritto appunto la seconda conseguenza di questo è che in origine il mancato rispetto di ciò che veniva sancito dal diritto iure potremmo dire ecco costituiva appunto non soltanto un torto nei confronti della comunità ma anche una vera propria offesa nei confronti della divinità del resto potremmo fornire anche molti altri esempi di etimologia sacrale tra cui anche lo stesso termine sacramentum che appunto indicava in diversi contesti anche in questo caso il giuramento e che in origine era un vero e proprio come anche abbiamo visto per il mondo greco un vero e proprio impegno sacro del resto appunto basta pensare riguardo al significato religioso residuale che è testimoniato anche dalla ritualità stessa parlo anche per chi ha studiato diritto romano dalla legge sacsio sacramenti in cui il sacramentum era proprio probabilmente giudicato addirittura dagli auguri o dagli aruspici e quindi aveva questa connotazione squisitamente magico sacrale o comunque religiosa e a ciò possiamo aggiungere che in un'ottica più generale diciamo è ampiamente consolidato il fatto che numerosi istituti giuridici romani abbiano appunto conservato per molti secoli dei tratti tipicamente religiosi che avevano appunto caratterizzato le origini più antiche del mondo romano appunto i romani erano come abbiamo detto anche in precedenza come anche i greci convinti che vi fossero delle parole dei gesti degli oggetti dei colori addirittura che fossero in grado di produrre degli effetti nel nel mondo di scatenare addirittura quelle forze che il professor Marrone ha definito come forze subrumane ecco basti pensare per questo alla solennità di alcune diciamo alla ritualità di alcuni istituti come per esempio la confarreazio e la penna culle che evidenziano in maniera molto chiara questo aspetto la confarreazio era il rito religioso con cui si celebravano nel mondo della Roma arcaica le nozze e costituiva un cerimoniale che appunto inglobava una serie di molto complesse di riti che andavano dalla divisione del panis fareus che appunto simboleggiava la condivisione tra i coniugi della vita matrimoniale ma anche appunto che si estendevano poi all'esame delle viscere della pecora che veniva sacrificata all'alba del giorno delle nozze anche per poter poi utilizzare la famosa pellis lanata come copertura dei sedili degli sposi altri rituali erano appunto collegati alla confareazio erano la cosiddetta dexterarum miunzio cioè l'unione reciproca delle mani degli sposi e la dexterazio che invece era il compimento di tre giri consecutivi verso destra dell'altare matrimoniale quindi una serie di ritualità che erano considerate però indispensabili anche dal punto di vista del perfezionamento diciamo dell'atto da un punto di vista estrettamente giuridico ho citato poi la pena Cullei che era una pena capitale riservata a Roma ai parricidi che prevedeva a propria volta una ritualità molto molto pesante se così possiamo anche dire ma che appunto evidenzia questa compenetrazione una ritualità che prevedeva ad esempio il fatto che il condannato venisse appunto inizialmente rinchiuso in una prigione con una pelle di lupo a copertura del capo e un paio di zoccoli di legno ai piedi e che poi fosse una volta pronto questo Culleus che era appunto un grande sacco che era stato preventivamente ricoperto di pece e appunto prevedeva che il condannato vi fosse rinchiuso in compagnia di una serie di animali un cane una vipera un gallo ed una scimmia e che poi trasportato diciamo da un carro trainato da un bue nero sino ad un corso d'acqua e inizialmente il Tevere ma poi anche eventualmente il mare appunto prevedeva che il Culleus venisse gettato appunto nelle acque quindi anche questa forma di pena capitale aveva un'imprescindibile connotazione sacrale e magico e magico religiosa ecco quindi in quest'ottica possiamo passare alla parte dell'intervento che riguarda il proprio in riferimento al rapporto tra diritto e religione in particolare nel mondo greco il tema che tratta il tema dell'inclusione e dell'esclusione sociale come dice il titolo del mio intervento ecco possiamo dire anzitutto che nell'esplorare questo tema emergono da alcuni recenti iscritti delle considerazioni molto rilevanti con riguardo appunto al tema della religione è stato negli ultimi anni proposto un nuovo paradigma anche in riferimento all'idea stessa di cittadinanza nel mondo greco e che secondo cui appunto come vedremo poi secondo cui la cittadinanza che era comunque una questione in qualche modo legata alla diciamo alla genealogia se così possiamo dire secondo cui pur essendo legata ecco alla genealogia sarebbe dipesa anche da una serie di riti di passaggio che potrebbero essere studiati anche come vere e proprie chiavi interpretative in qualche modo della struttura sociale greca e in effetti questa interpretazione diciamo meno istituzionale ma più se così possiamo dire sacrale anche da un certo punto di vista è confermata dal fatto stesso che ad Atene l'acquisizione della cittadinanza fosse strettamente legata al compimento di alcuni specifici rituali vi era un processo di integrazione del giovane e dei giovani che appunto erano indirizzati a diventare cittadini a tutti gli effetti che si estendeva di norma per due anni ad Atene dai 18 ai 20 anni durante i quali questi giovani atenesi appunto che si indirizzavano ad entrare a far parte a pieno titolo dello Stato i cosiddetti Efebi partecipavano appunto attivamente a dei riti di passaggio nell'ambito di questo cosiddetto servizio militare se così possiamo chiamarlo che però non era unicamente un servizio militare ma aveva una connotazione rituale molto molto forte appunto e affrontavano questo percorso proprio per essere riconosciuti poi a tutti gli effetti come cittadini all'interno della della polis e questo appunto rito di passaggio non solo potremmo dire segnava la transizione da giovane a cittadino adulto ma proprio nell'idea stessa di questo percorso creava anche un legame di fatto indissolubile tra l'individuo stesso tra l'individuo stesso appunto e le norme in qualche modo potremmo dire religiose e legali della società e appunto in questa ottica la religione e i riti associati alla religione diventavano strumentali e fondamentali proprio per l'integrazione nel contesto della vita politica e sociale della città dei giovani atenesi e influenzavano appunto in questa ottica in maniera significativa la vita comunitaria e appunto il concetto stesso di inclusione sociale anche in questo caso era fondamentale e centrale all'inizio dell'Efebia il giuramento il cosiddetto giuramento efebico attraverso appunto il quale venivano invocate sul nel santuario del Glauro su uno dei versanti dell'acropoli venivano invocate diverse diverse divinità come come testimoni del degli Efebi che promettevano di mantenere e ampliare migliorandola la patria nel suo complesso di tenere in onore i santuari ancestrali di obbedire funzionari alle leggi dello Stato e di essere soldati coraggiosi ecco come dicevamo appunto in precedenza l'ottenimento della cittadinanza era di fatto un percorso essa non dipendeva dalla circostanza di risiedere o di avere risieduto in in passato ad Atene o nell'Attica cosa che non dava nessun diritto all'ottenimento di per sé dell'automatico quantomeno della della cittadinanza ma era determinata appunto da un criterio di discendenza fino al 451 avanti Cristo era sufficiente essere figlio di un cittadino atenese poi Perich lo decise di limitare la cittadinanza a chi fosse figlio di cittadino e cittadina atenese con poi il percorso di cui abbiamo parlato non era impossibile in realtà per gli stranieri diventare cittadini in qualche modo per naturalizzazione ma era si trattava di un privilegio che in realtà solo pochi potevano potevano ottenere perché gli atenesi in questo senso erano piuttosto avari potremmo dire nella concessione della cittadinanza e tant'è che addirittura non sappiamo nemmeno se i figli illegittimi di cittadini atenesi potessero diventare cittadini essi stessi ma probabilmente è probabile che non potessero che non potessero diventarlo ecco come dicevo c'erano alcune eccezioni c'erano alcuni casi in cui alcuni soggetti era stato è stato concesso la cittadinanza ma questo tipo di percorso presupponeva un iter legislativo molto complesso perché non si trattava di una semplice delibera che attribuisse appunto la cittadinanza ma appunto un iter molto strutturato che addirittura in periodo classico prevedeva un decreto dell'assemblea che doveva essere emesso dopo almeno due sedute e per la seconda delle quali c'era addirittura un quorum di femmila persone e di voto segreto e quindi si trattava di una procedura molto complessa che in qualche modo fa capire come la cittadinanza diciamo dovesse essere accordata attraverso una decisione dell'assemblea in quanto doveva essere presa di fatto dall'intera comunità cioè era la comunità stessa che accettava un nuovo soggetto come cittadino questo perché il discorso sarebbe abbastanza complesso ma diciamo nella prospettiva che dovremmo definire culturale o addirittura costituzionale se vogliamo degli Ateniesi la terra stessa doveva appartenere soltanto alla comunità dei cittadini ricaviamo da Aristotele nel terzo libro della politica che la polis è una coinonia politon politeia cioè una comunione di cittadini in conformità alla costituzione cittadini che appunto erano gli unici che potevano possedere la terra e con ciò appunto si evidenzia questo rapporto indissolubile anche che c'era tra il concetto stesso di cittadinanza e titolarità della terra attica in un'ottica assolutamente sacrale e è proprio per questo motivo che appunto fatta salva la residuale concessione del privilegio della cosiddetta enctesis soltanto i cittadini appunto potevano possedere ad Atene delle proprietà immobiliari l'essere appunto proprietario di parte del territorio della città significava in qualche modo compartecipare alle cose comuni della polis in un'ottica appunto politico-religiosa che però era legata appunto ad una sacralità tipica appunto del mondo attenese che aveva un'importanza giuridico-politica molto molto forte pensiamo comunque che anche al giorno d'oggi ci sono alcuni stati in cui solo i cittadini possono possedere proprietà immobiliari e questo proprio nell'ottica diciamo anche di appartenenza e ecco appunto è questo il motivo per cui come dicevo la hora cosiddetta hora civica essendo così legata alla sfera del sacro di cui tutta la città era in qualche modo impregnata poteva appartenere soltanto ai cittadini proprietà immobiliare che del resto ad Atene ma comunque più in generale anche nel mondo nel mondo greco ha sempre rappresentato un elemento di vera e propria continuità sociale potremmo dire Gernet ci nella sua antropologia ci facendo riferimento a delle considerazioni di Lipsius ipotizza appunto l'esistenza di un'azione pubblica che si che si chiamava Graf Peccata de Duchenne et a Patroa che era diciamo un'azione che appunto Lipsius definisce come clage wegen verspendung des fetta di cento emergens cioè un'azione volta a punire la dilapidazione del patrimonio paterno questo proprio nell'ottica di cui abbiamo fatto riferimento cioè l'ottica secondo la quale l'idea stessa di dilapidare il patrimonio familiare di quindi violare questa proprietà immobiliare era considerato una diciamo in qualche modo un crimine e non so adesso nel corso della scorsa conferenza il professor Franzoni ha parlato delle norme costituzionali che adesso tutelano in qualche modo le nuove generazioni forse ecco anche questa graffè poteva essere finalizzata a non soltanto appunto garantire la prosecuzione diciamo del patrimonio familiare anche nell'ottica di preservarla per le future generazioni quindi ecco sulla base di quello che abbiamo detto fino adesso potremmo dire da un certo punto di vista che la l'Atene democratica in realtà dal punto di vista dell'inclusività o esclusività non fosse caratterizzata appunto da una vera apertura nei confronti dell'integrazione sebbene questa integrazione fosse a certi livelli possibile ma ponesse enfasi piuttosto su aspetti in qualche modo identitari e mostrasse un atteggiamento culturale di sostanziale chiusura verso l'esterno in quanto di fatto avevano una reale importanza dal punto di vista sociale e sacrale soltanto coloro che effettivamente godevano del diritto di cittadinanza addirittura sappiamo che i meteci che gli stranieri residenti d'Atene che svolgevano dal punto di vista economico un ruolo molto importante appunto ne erano totalmente esclusi quindi in questo senso potremmo dire che il concetto stesso di cittadino si definiva in qualche modo anche per contrasto con il concetto di non cittadino ovvero sia appunto con il profilo di chi non aveva accesso a questi privilegi che oggi considereremmo dei diritti civili e politici di fatto era proprio questa esclusione che risultava in qualche modo fondamentale in quanto creava uno spartiacque una netta separazione tra coloro che appartenevano nel senso più profondo alla comunità e quelli che invece ne erano di fatto esclusi quindi appunto il concetto di cittadinanza alla luce di tutto quello che abbiamo detto implicava di fatto in un certo senso una relazione appunto con gli esclusi perché dava senso e valore appunto all'identità del cittadino in rapporto appunto con chi non era cittadino per Roma il discorso è sicuramente più complesso più ampio diciamo per Roma si è sottolineato anche più recentemente come fosse in qualche modo meno accentuata la dimensione o meglio la componente etnocentrica se così possiamo dire che era propria di molte comunità antiche tra cui appunto quella greca ma il valore dell'idea stessa di confine di sacro inviolabile e l'ha anche riferimento a quanto abbiamo detto in precedenza una certa chiusura fino a fasi abbastanza avanzate del mondo romano è comunque presente ma adesso non amplierei questo discorso appunto al mondo romano che lascio per una futura conferenza e quindi concludo grazie che risalgono che risalgono evidentemente a pratiche arcaiche e di natura molto spesso religiosa sacrale eccetera io avrei così delle più che delle domande mi ha la sua la sua conferenza secondo me a posto anche degli interrogativi per esempio interrogativi sulle fonti e anche su altro ma ne parleremo dopo prima volevo sentire se ci sono delle domande da parte del pubblico o da parte di coloro che sono collegati da remoto prego professore Antonio Zandonatti allora con le leggi delle dodici tavole siamo più o meno a metà del sesto secolo avanti Cristo la magia viene considerata un crimine e facciamo passare circa 600 anni sono tanti e troviamo che un famoso scrittore africano Puleio viene trascinato in tribunale perché era accusato di aver indotto con la magia una ricca vedovella a sposarlo e gli accusatori chiedono per lui addirittura la pena di morte quindi questo se non erro dovrebbe significare che la magia viene considerata altrettanto negativamente 600 anni dopo rispetto alle dodici tavole e poi un'altra cosa in questa orazione che Apuleio pronuncia in sua difesa se non ricordo male lui ammette di essere un magos però dando a questo termine un significato positivo nel senso che il significato che veniva dato nella religione di Zoroastro cioè il personaggio a metà credo tra il sacerdote e il sapiente insomma come i tre re magi che vanno da Gesù Bandino ecco questa cosa quindi si può dedurre che ci fosse una considerazione positiva della magia o perlomeno un uso positivo del termine magia e un uso negativo ma allora già in precedenza la professoressa Salomoni aveva parlato con riguardo alle 12 tavole appunto di magia negativa veniva punita questa magia diciamo negativa per il periodo delle 12 tavole non abbiamo molte informazioni ulteriori sappiamo che determinati comportamenti molto specifici anzi direi tecnici in qualche modo che sono quelli di cui abbiamo parlato in precedenza venivano erano considerati illegittimi e venivano puniti sicuramente il fatto che venissero puniti significava anche che venissero effettuati cioè che ci fossero persone che effettivamente si recavano alla porta dei testimoni per cantare queste formule magiche che cercassero di spostare le messi utilizzando formule magiche e evidentemente quindi per rispondere alla domanda penso che la risposta sia affermativa forse c'erano dei punti di vista diversi sicuramente c'è stata un'evoluzione anche della visione della magia sicuramente anche in Apulei o comunque anche lo stesso processo appunto a cui abbiamo fatto riferimento confermava il fatto stesso che ci fosse un processo per magia confermava che evidentemente fosse vista in un senso negativo poi il fatto che ci fossero dei appunto maghi che avessero anche delle connotazioni in parte ammesse da un punto di vista sociale penso che questo sia sicuramente vero e del resto la magia poi ha continuato ad esistere ad esserci anche per molti secoli anche per i secoli successivi non è un fenomeno che comunque si è limitato al mondo è stato limitato al mondo al mondo antico anche qui localmente diciamo abbiamo degli esempi di processi per stregoneria per cui penso che comunque si trattasse quantomeno per questa magia negativa appunto di comportamenti che rispecchiavano cioè che erano ancorati ad un mondo appunto magico religioso soprattutto magico tipico del del prediritto e che effettivamente il diritto in qualche modo cercava di cercava di limitare non so se ho risposto esattamente alla domanda però prego grazie a me interessa fare una riflessione e fare una domanda dal punto di vista del diritto penale nel senso che non so se siamo d'accordo ma quello che contraddistingue la magia della religione è sostanzialmente una sfera privata per quanto riguarda la magia una sfera pubblica per quanto riguarda nella religione rispondono entrambe ad un'esigenza particolare dell'uomo dato che il mondo è messo allora ai giorni nostri ma merizzo un po' ma posso pensare che la sfera magica è superata nel diritto penale da la visione della circondazione di capace la truffate e che induca a fare qualcosa approfittando le sue vebolezze e rispettando i tuoi intiomati per risolvere il tuo problema mentre la religione è favorata dal mondo di vista pubblico di difendere la religione ma nessuno oserebbe pensare che non voglio fare di nessuno l'ecarestia non sia una formina magico-religiosa ma una fincotta di ingannare i fedeli le domande le domande è un mondo romano che è telegretto che mi interessa relativamente questa differenza tra la magia come sfera privata e la religione come sfera pubblica ha un rivolto dal punto di vista della città e la professione c'è differenza e non viene quindi differenza è un po' come era inquadrabile quello che oggi noi vediamo in questi termini io e lei non abbiamo il tempo che la perfondiamo beh sì la domanda non è proprio facilissima ma sicuramente il fatto appunto che anche del processo appunto di cui si parlava in precedenza fa capire come la magia fosse in qualche modo perseguita e sì sicuramente era un aspetto che riguardava più l'ambito privato forse che piuttosto che l'ambito pubblico anche se non sono convinto che ci fosse proprio questa diciamo differenza ovviamente la religione era un fenomeno fondante rispetto allo stato stesso quindi come del resto abbiamo visto anche per quanto riguarda la Grecia quindi sicuramente non 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 poteva determinare non poteva costituire di per sé un a meno che non fosse probabilmente diciamo utilizzata per ottenere degli scopi negativi però ecco non vedo non vedo forse questa possibilità quindi no anche in questo caso non so se era una domanda o se una un'affermazione però ecco mi sembra che ci sia sicuramente questa differenza tra un contesto più privato che riguardava l'ambito della magia come potrebbe riguardarlo anche oggi e l'ambito benché diciamo anche oggi anche certe forme di religione o certe diciamo sì certe religioni forse inglobano degli aspetti in qualche modo magici e adesso non parlo chiaramente della religione cristiana però che forse possono portare anche a delitti ci sono altre domande allora volevo fare io una domanda partendo proprio da un'affermazione che fa Zerné nell'opera diritto e civiltà dove sostanzialmente afferma che la polis non è un punto di approdo ma una tendenza proprio perché continuano a sussistere nell'atto della lungo iter di formazione dello Stato continuano a sussistere delle diciamo ripartizioni se così possiamo chiamarle familiari da cominciare dalle tribù i viene le fratrie e tutti questi avanzano diritti sono portatori depositari di norme che mal si conciliano spesso con evidentemente uno Stato autonomo e tendente a una razionalizzazione e a questo proposito lo dicevamo anche prima a questo proposito una delle fonti interessanti per quanto riguarda questo momento piuttosto complesso di formazione dello Stato è proprio il teatro e Luciano Canfora ha affermato che il teatro nasse nel pieno travaglio dell'elaborazione giuridica della polis quindi mettendo proprio sul piano il rapporto strettissimo fra teatro e diritto e non è un caso che in alcune tragedie in modo particolare nelle tragedie del primo tragico Eschilo e nell'Orestea la fondazione del primo tribunale atenese il tribunale dell'Areopago nasca nel momento in cui si cerca di regolarizzare la vendetta vendetta che aveva un suo statuto e dei suoi nomi tutelari ecco gradirei che magari lei potesse approfondire proprio questo tema del travaglio giuridico nell'elaborazione evidentemente dello Stato attimese che appunto deve conciliare delle norme che in parte appartengono diciamo al diritto sacrale e in parte a consuetudini familiari come abbiamo visto prima allora questa domanda è molto difficile diciamo che mi riporta alla mente il termine vendetta mi riporta alla mente il diciamo alcuni aspetti omerici in particolare la questione dello scudo di Achille su cui era rappresentata il cosiddetto processo omerico è una scena molto complessa che è stata analizzata poi qualche anno fa è stata analizzata da molti ma qualche anno fa in un libro appunto che si intitola il processo omerico di cui ho anche scritto la recensione per la rivista Ateneum nel quale appunto viene descritta questa scena processuale sullo studio di Achille che sostanzialmente rappresenterebbe un momento in cui la società omerica aveva superato in qualche modo il concetto stesso di vendetta che caratterizzava appunto la società della vendetta che era la tipica società arcaica per passare ad una società nella quale non necessariamente non era necessariamente non era necessaria a tutti i costi appunto la vendetta ma la vendetta poteva essere sostituita dal pagamento ad esempio di una somma in quel caso c'era la famosa poinè che appunto è al centro di questa disquisizione che poi è stata interpretata in diversa maniera da diversi autori sul l'aver pagato non l'aver pagato il dover pagare non dover pagare non dover pagare questa famosa poinè quindi ecco il concetto di vendetta è sicuramente un concetto cruciale da cui diciamo parte in qualche modo l'analisi dello sviluppo del diritto nel mondo nel mondo greco proprio perché è il superamento della vendetta che in qualche modo attraverso forme alternative come il pagamento appunto di una di questa poinè diciamo permette di identificare il diciamo un meccanismo di risoluzione delle controversie che non fosse basato soltanto sulla sulla violenza sulla legge del taglione sostanzialmente e quindi ecco in quest'ottica adesso non so come riagganciarmi alla domanda ma sicuramente poi lo sviluppo del diritto e questa visione anche di Gernet della polis come un non forse come punto di approdo ma come diciamo un mondo politico e in qualche modo giuridico anche in divenire è sicuramente è sicuramente giusta ed è indicativa del fatto che comunque anche la l'Atene democratica era uno stadio di uno sviluppo chiaramente che è un sviluppo che in quel periodo ha visto nascere alcune istituzioni che poi in qualche modo sono anche alla base di alcuni concetti giuridici che per noi possono essere fondamentali soprattutto nell'ambito del diritto pubblico e diritto costituzionale prima ho dimenticato di fare un riferimento appunto quando ho parlato del rapporto tra Kelsen e Gernet in qualche modo cioè tra la differenza tra l'idea della funzione giuridica autonoma e invece della dottrina pura del diritto mi veniva quasi da dire che in qualche modo in realtà un collegamento tra Kelsen e il mondo greco c'è basti pensare che Kelsen ha sviluppato l'idea appunto della cosiddetta Stufenbau della costruzione diciamo a gradi dell'ordinamento giuridico e nell'ottica anche quindi dello sviluppo di quella che lui chiamava la che era basata proprio sull'idea diciamo di costituzione superiore alle leggi ordinarie che doveva in qualche modo essere tutelata anche nel mondo greco per esempio nel mondo greco classico esisteva la cosiddetta grafè paranomon che era un'azione di incostituzionalità delle leggi poi è stata in qualche modo limitata ai decreti è stata introdotta un'altra azione che si chiamava grafè nomon epitè dei ontheinai ma anche nell'ottica diciamo dei greci e della dell'Atene classica il vi era un'idea per cui il l'insieme diciamo delle delle norme che costituivano di fatto la quella la politeia che potremmo in un certo senso anche definire come costituzione ecco che queste norme fossero sovraordinate rispetto a norme subordinate che potevano essere comunque promulgate e che dovesse essere verificata la compatibilità tra queste norme appunto e l'insieme dei nomoi diciamo validi e infatti appunto in molti casi ci sono stati molti casi in cui le nuove leggi sono state considerate lesive del sistema della della politeia e hanno addirittura determinato poi conseguenti molto gravi nei confronti di coloro che avevano proposto queste leggi anche solo in quanto considerate di fatto indesiderabili per cui ecco forse non so se ho risposto la domanda ma questo tema anche che è stato sollevato è sicuramente molto interessante potremmo approfondirlo da tanti punti di vista un'ultima cosa sicuramente ecco per diciamo rispondere meglio forse il tema del rapporto tra dimitto e teatro è sicuramente fondamentale da diversi punti di vista perché da un lato il teatro sicuramente inglobava in qualche modo del diciamo dei concetti che erano anche giuridici ma è per noi anche una fonte di conoscenza del mondo del giuridico della Grecia antica perché dicevamo che appunto per Gortina noi siamo in possesso di un in qualche modo di un corpus di un codice ed è siamo in possesso solo per una fortuita casualità solo perché il professor Calber ha deciso di in un certo momento di scavare in un certo punto e potremmo anche non esserne in possesso per Atene non abbiamo questa questa fortuna ma abbiamo del materiale non soltanto oratorio ma appunto anche proveniente dal dalla commedia e dalla tragedia che ci permette in abbinamento ad altro materiale epigrafico di trarre determinate conclusioni quindi è stato pubblicato credo nel nel 2006 o 2007 a Milano il volume il volume che si intitolava se non sbaglio Diritto e Teatro in Grecia e Roma curato dalla Dava Cantarella e Lorenzo Gagliardi in cui effettivamente vengono approfonditi diversi aspetti del in quel caso credo del solo della commedia forse ma non sono sicuro proprio come fonte del diritto romano e del diritto greco certamente non solo come fonte ma anche come ricerca di soluzione prima appunto si parlava della della il tema della della vendetta che è presente nell'oristea di Escolos in modo particolare nell'ultimo dramma della della trilogia dove evidentemente il fatto che il tribunale concluda con un verdetto in realtà che non è conclusivo perché una metà degli areopagiti vota a favore della soluzione e esattamente l'altra metà invece vota a favore ancora della vendetta operata da Oreste e quindi questo evidentemente mette davanti agli spettatori e davanti a noi che leggiamo l'opera evidentemente questo travaglio di cui parla 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 canfora cioè il il fatto che non esiste mai una una risposta finale conclusiva ma evidentemente certe tematiche e certi problemi sono infieri insomma la necessità di ulteriori approfondimenti e di un dibattito collettivo ci sono ci signore grazie allora leggo per l'intervento domanda di Presidente Indri la duplice natura della magia buona e cattiva persiste almeno fino a giustiniano incluso un caso in parte davvero diverso è la divinazione che a partire dal quarto secolo è assolutamente proibita questo è legato solo alla cristianizzazione o è in qualche misura un fenomeno più antico grazie la domanda se la la proibizione diciamo della divinazione sia legata al sviluppo del cristianesimo ripeto un caso diverso dice è la divinazione che a partire dal quarto secolo è assolutamente proibita questo è legato soltanto alla cristianizzazione oppure è in qualche misura un fenomeno più antico cioè se la divinazione è un fenomeno più antico rispetto al veto imposto dalla ma io penso che sia molto legata alla cristianesimo in realtà la proibizione della divinazione non ne abbiamo parlato poi in realtà questo è un tema su cui si potrebbe non abbiamo nemmeno parlato anche per quanto riguarda Atene per esempio dei misteri di Leusi eccetera però ecco io penso che immagino che appunto sia in questo caso soprattutto legata anche allo sviluppo del cristianesimo legata? allo sviluppo del cristianesimo penso che sia soprattutto per questo motivo che e grazie al professor Vendri anche per la domanda e anche per aver sottolineato appunto anche l'esistenza parallela di magia negativa come abbiamo detto in precedenza magia anche in qualche modo buona un certo setticismo però prevaleva anche molto prima nel cristianesimo sì sicuramente sicuramente però penso che forse la domanda appunto credo forse volta sì se questo se il cristianesimo fosse l'unico motivo lo so probabilmente non era l'unico motivo però penso che sicuramente poi l'adivinazione fosse incompatibile in qualche modo anche se poi non lo so nelle linee che poi ha seguito il cristianesimo in un periodo successivo beh direi che qui ci sarebbe potremmo parlare a lungo mondo e bravo nel testo dell'antico testamento più volte viene specificato il divieto ma quindi quindi mi piace queste cose qui quindi procedendo via sì scusa c'è un'altra domanda online allora la semplice contemporaneità dei termini religio e timmago portata ad una diffusione popolare dalla polis agli abitanti considerati extra polis può avere di per sé stimolato riflessioni sulla propria condizione di individuo sulla propria posizione rispetto al diritto alla capacità alla possibilità di far parte di gruppi riconosciuti come agenti in ambienti considerati in qualche modo superiori nutrendo un senso di ambizioni e scatto sociale di affermazione personale di conquista trasmissione più del valore personale in risposta alla tradizione di farlo tramite la materia proprietà terra e poi potremmo dire che questo trivio rappresenti per le società a stampo democratico occidentale l'originaria ripartizione di gruppi contrapposti sui valori di base che tengono a distinguersi ancora oggi non ho capito esattamente la prima domanda sostanzialmente si chiede provo a riassumere allora se questa contemporaneità dei termini religio di mago può avere stimolato riflessioni sulla propria condizione di individuo e sulla propria posizione rispetto al diritto alla possibilità di far parte di gruppi riconosciuti come agenti in ambienti considerati in qualche modo superiori nutriendo un senso di ambizione di riscatto sociale di affermazione personale di conquiste e di trasmissione più del valore personale in risposta alla tradizione di farlo tramite la materia proprietà terra penso di sì sì no penso che queste diciamo allora penso che lo sviluppo della della persona adesso c'è adesso non vorrei divagare ma comunque il concetto stesso di persona è oggetto di anche nel mondo nel mondo romano io avevo partecipato come al collegio di diritto romano ancora nel lontano 2008 se non vale 2009 in cui era stato trattato da tantissimi punti di vista l'idea stessa di sviluppo della persona nel mondo nel mondo nel mondo romano il collegio quell'anno aveva il titolo appunto di homo caput persona la costruzione giuridica dell'identità nel mondo romano quindi penso che ogni aspetto anche legato poi alla visione del soggetto rispetto anche a entità collettive rispetto al fenomeno religioso eccetera abbia la possibilità di determinare un'influenza sulla di natura identitaria per cui penso che la risposta alla domanda se lo capita in maniera corretta sia alternativa la violazione rappresenta quindi la contemporanea uscita da una fazione e l'automatico ingresso in un altro come in una sorta di alfabetizzazione civica di base circolare atta raggiungere l'integrità questo è un tema che lasciamo a nuove conferenze avvocato mirandola ecco la mia domanda molto semplice spero che sia anche pertinente in che misura la religione secondo lei è inflitto nel mondo occidentale nell'allaborazione del diritto meglio dei diritti che poi c'è anche una predizione di massima forse un po' a vita ritiene che in futuro la religione possa influire sempre l'elaborazione dei diritti che mano a mano si afferlano grazie beh grazie sì sono in generale diciamo un esperto di religione da questo punto di vista forse però penso che sicuramente abbia influito molto e penso che sia un po' anche quello che diceva nella scorsa conferenza il professor Franzoni cioè che fino diciamo a Kelsen fino a questa idea di dottrina pura del diritto il diritto ancora nell'ottocento inglobasse molti aspetti in qualche modo in qualche modo religiosi e del resto vabbè forse noi anche vivendo in uno stato come l'Italia sappiamo anche qual è il peso sociale e culturale e in qualche modo anche giuridico della religione adesso è chiaro che se ci concentriamo solo magari sul diritto canonico lo possiamo vedere come un contesto in qualche modo a parte come un contesto che si riferisce soltanto ai Cristi Fideles però se invece anche soltanto pensiamo al diritto ecclesiastico vediamo che la religione in realtà in qualche modo da un certo punto di vista perlomeno ha ancora un aspetto molto importante da un punto di vista socio-culturale e anche giuridico e del resto appunto viviamo in uno stato che ingloba lo stato città del Vaticano per cui ecco non so se questa è una risposta la domanda però sicuramente penso che la religione abbia svolto un ruolo molto molto forte fino ad epoche molto molto recenti e che tuttora sia difficile non tenerla in considerazione per il futuro non lo so se non ci sono altri interventi ringraziamo ancora il dottor Colorio per questa anche suggestiva particolare una conferenza così si chiude il ciclo per quest'anno si chiude ma la nostra intenzione è di riproporlo anche nel prossimo anno e si chiude a pochi giorni dalla celebrazione del 25 aprile c'è un nesso sicuramente un esso che ci dice se il 25 aprile indica la resistenza contro evidentemente ogni forma di dittatura noi dobbiamo ricordare che la democrazia è un istituto che non è dato una volta per sempre ma va difeso continuamente da noi anche nella nostra modesta vita quotidiana con l'attenzione la salvaguardia e la vigilanza grazie a tutti anche ai ai nostri utenti da remoto e buona serata grazie a tutti